Mi capita di ascoltare ormai da settimane anche colleghi di altre regioni, di altre istituzioni, invocare la riapertura universale, opriamo domani, apriamo subito, apriamo tutto. Bene, il mio invito a quelli che si stanno perdendo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la domanda di lavoro che c'è, ovviamente ed è drammatica, senza decidere niente. Allora chi vuole aprire domani mattina lo faccia, anziché parlare di apertura, apra, se ne assuma la responsabilità. Però facciamola finita con questo chiacchiericcio che è diventato davvero insopportabile. Il modello Campania significa che noi dobbiamo aprire tutto, ma avendo l'obiettivo di non richiudere una settimana dopo. Chiaro? A Milano ancora in queste ore registriamo nuovi contagi ogni 24 ore da 500 a 700, cioè ogni 24 ore ci sono 500, 600, 700 contagi in più. Una delle differenze che ci sono state fra Campania e Lombardia è rappresentata dal fatto che per esempio in Lombardia un mese fa, 20 giorni fa, avevamo una mobilità del 42%, Cioè praticamente la metà della popolazione era in giro. Io credo che questo abbia avuto una ricaduta pesante sul contagio. In Campania abbiamo stretto i freni, abbiamo anticipato alcune chiusure di due settimane rispetto alle decisioni nazionali. Questo ci ha salvato, tanto per essere chiari. Questo ci ha salvato. E oggi abbiamo le condizioni di serenità per pensare davvero ad aprire le attività economiche, ma aprirle per sempre.